Ciao a tutti gli amici di Android Blog, quest'oggi stiamo facendo una maxi recensione, un maxi versus, chiamatelo come volete, perché praticamente stiamo recensendo, facendo quindi questo confono tra tre dispositivi che sono entrambi dual sim, tutti e tre dual sim e che hanno più o meno delle caratteristiche paragonabili, lo schermo è sempre un QHD da 4.5 pollici per l'NGM Forward Infinity e per l'Acid Liquid E2, mentre 4.7 per l'Alcatel Idol 6030D dual sim. Quindi come vi dicevo sono telefoni tutti dual sim e quindi siamo qui per vedere un po' quali scegliere tra tutti. Se non c'è tanta differenza per quanto riguarda lo schermo, c'è un po' di differenza per quanto riguarda memoria e per quanto riguarda il processore. Infatti abbiamo, a differenza degli altri, sull'Alcatel OneTouch abbiamo un processore dual core e in compenso però abbiamo una memoria da bene 16GB, contro invece i 4GB espandibili tramite SD ma solo 4GB interni, quindi magari per scaricare applicazioni che richiedono molta spazio di memoria interna, ma purtroppo non sarà il massimo. Quindi queste sono le differenze principali. Altre differenze principali sono che l'Alcatel OneTouch è unibody, quindi non è possibile andare ad estrarre la batteria, però in compenso ha questa linea alluminio sicuramente tra tutti il più elegante, il più leggero, il più rifinito dal punto di vista estetico e è presente una fotocamera da 8 megapixel come tutti quanti gli altri, direi che da questo punto di vista non ci sono particolari differenze. E anche qui, però in entrambi, come stavo dicendo, sull'energia M e sull'Asia c'è la possibilità di andare ad estrarre la batteria. Inoltre, andando ad aprire i telefoni, possiamo vedere, vediamo solo su questo, gli altri, l'energia M e simile, si permettono questi di inserire in una scheda SIM normale, mentre l'Acer ha tutte e due micro SIM. E direi che è una giusta scelta, visto che ormai tutti quanti usano micro SIM e mi sono dovuto adattare con gli adattatori. Scusate il gioco di parole, ma era carino. Bene, detto questo, parlerei di ricezione e di Wi-Fi e di GPS. Allora, per quanto riguarda la ricezione, tutti e tre i telefoni funzionano abbastanza bene. Secondo me la ricezione migliore c'era l'Acer e l'NGM. L'Acer è un pochino sotto, sia nella ricezione telefonica sia nella ricezione Wi-Fi, dove secondo me il migliore è l'NGM. Il Wi-Fi e l'NGM va davvero molto bene. L'Acer lo segue da vicino, l'HT lo segue da vicino, questo liquid invece lo segue da molto lontano. Sinceramente è davvero scarso il Wi-Fi su questo telefono. Perlomeno scarso dal punto di vista di potenza. Detto questo, andando a parlare di GPS, vorrei provare a far partire insieme il GPS, cioè insieme più o meno sullo stesso momento, per vedere un pochino chi si aggancia e come si agganciano al GPS i telefoni. Quindi direi allora di andare a farlo partire anche sull'Acer, sperando di aver lasciato... Eh, sull'Acer, sull'Alcatel, oggi sto fuso con Acer e Alcatel, e sperando di aver inserito anche qui, di aver lasciato... Sì, ok, qui ho lasciato acceso il GPS, di qua il GPS è acceso. Quindi perfetto, sono tutti messi bene. Allora, nonostante l'Alcatel sia l'ultimo ad essere partito nella ricerca del satellite, ne ha già trovati 12, mentre gli altri sono a zero. Vediamo un po' però che neanche l'Alcatel si sta agganciando, gli altri sono a zero, ma l'Alcatel nemmeno si è ancora agganciato. Vediamo un po' se qualcuno si riesce a agganciare. Ecco che riesce a vederne uno, l'NGM, mentre il nostro Acer è benché fermo a zero, senza alcuna possibilità ancora di aver trovato un GPS. Direi allora di non continuare ulteriormente la nostra prova, direi che tutti e tre non funzionano molto bene con il GPS, non hanno questa grandissima reattività, però per esperienza anche di utilizzo devo dirvi che l'Alcatel si attacca, o perlomeno molti migliori... Ecco, l'Alcatel si è attaccato, eccolo qua, l'Alcatel si è attaccato. In effetti l'Alcatel mi è sembrato anche su strada il più reattivo tra tutti. Dopo un po' segue l'NGM, invece questo Acer Liquid 2 sinceramente è abbastanza piro. Bene, dove aver visto questo? Allora parlerei un po' di foto che sono state scattate, toglierei gli altri telefoni e parlerei prima dell'Acer. L'Acer scatta davvero buone foto, mi sono piaciute, non ho avuto davvero problemi a scattare foto, anche abbastanza sotto il sole, nessun problema, anche video. Anche il video va davvero bene, infatti sono rimasto soddisfatto, devo dire, da tutte e tre le fotocamere. Non ho avuto davvero problemi a utilizzare la fotocamera di nessuno dei tre, sono davvero buone fotocamere, nulla di trascendental, nulla di così fantastico, ma realizzano buone foto, foto discrete che si vedono bene se messe al computer, quindi direi che sono più che sufficienti per un utilizzo classico che si fa dello smartphone. Quindi questo è forse molto benissimo, è venuto bene anche il video fatto con questo NGM. Bene ragazzi, quest'oggi siamo in compagnia dell'NGM Forward Infinity e stiamo realizzando un video anche utilizzando lo... Quindi nessun tipo di problema, questa è una foto scattata al buio, sempre con questo NGM Forward Infinity, devo dire che è venuta davvero davvero bene, quindi ottima la fotocamera anche dell'NGM. Per quanto riguarda invece l'Alcatel, dato che è il mio telefono di utilizzo classico, un attimo che vado in galleria, scusatevi se tolgo la camera, ma devo farlo, visto che ho molte foto che sono magari private e molti non vogliono far vedere le loro foto, altrimenti mi uccidono, tra virgolette. Ok, un attimo che cerco di recuperare le foto, eccole qua. Ok, siamo in fotocamera. Ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, questa è una foto che ho scattato sempre nel mio giardino, anche quest'altra, e devo dire che sono foto davvero davvero di buon livello. Questo è un video... Ah no, era ancora una foto, scusatemi. Ah no, il video l'avevo passato, eccolo qua. Stiamo facendo un video con l'Alcatel OneTouch Idol 6030D. Il video è di buon livello, anche questo realizzato dall'Alcatel, e infatti, come ho già detto in precedenza, i video e le foto sono praticamente, a mio giudizio, alla PAI, d'altronde troviamo sempre 8 megapixel di camera, quindi più o meno siamo lì. Bene, dopo aver visto questo, vi dico anche che mail e altre funzionalità che si possono avere con Android sono praticamente alla PAI, direi quindi di passare subito alla parte relativa al browser, quindi andrei ad aprire il browser, farei l'unica prova con The Verge, lo facciamo partire subito sul launcher, segue a ruota l'NGM, e facciamo arrivare anche l'Alcatel. Un attimo che sto trovando The Verge, purtroppo l'Alcatel mi sta facendo qualche aggiornamento, benché io gli abbia detto di non farli, ma purtroppo ogni tanto partono da soli, nel frattempo che l'Alcatel carica, l'Alcatel ha già caricato, e anche l'NGM, come avete visto sono arrivati più o meno lì, considerando che uno è partito un po' dopo, e già che siamo qui vi faccio vedere anche la differenza tra i vari schermi dei telefoni. Ecco che sto scrivendo anche The Verge sull'Acer. Ok, eccolo, il nostro Alcatel Idol che sta cominciando anche lui ad aprire The Verge, aspettiamo che lo carica, ah scusatemi, questo lo sta caricando in versione mobile, e allora aspettiamo che la carica, e poi diciamo di aprirlo in versione full. Un attimo che lo sta aprendo, dateli tempo, eccolo, dichiariamo di aprire il full site, considerate che l'Alcatel sta facendo aggiornamenti, e quindi probabilmente sarà un po' più rallentato, vediamo un po' come lo apre, oh Whatsapp, scusatemi, ma Whatsapp purtroppo mi sta scocciando, visto che sto facendo il test dell'Ellumia 625 nel frattempo, e ho inserito lì il mio account di Whatsapp, e Whatsapp dice ma non lo puoi avere su due telefoni giustamente. Allora The Verge è arrivato, e devo dire che il telefono è abbastanza fluido, nonostante sia facendo aggiornamenti nel frattempo, e considerate che sì che c'è qualche blocco, ma questo telefono quando non fa aggiornamenti, quindi quando sta funzionando al normale, questi blocchi non li ha, perciò prendeteli, prendetelo per buono, e che quindi i blocchi non li ha, perché a me non è mai successo, o perlomeno sono poco frequenti. Per oggi, già che siamo qui, e sono più o meno impostati tutti quanti alla luminosità automatica, volevo farvi vedere la differenza che c'è tra gli schermi, dato che tutti quanti sono sulla stessa, provo ad avvicinare, ecco, tutti quanti sono impostati più o meno alla stessa luminosità, e possiamo vedere che, forse, uno degli schermi migliori per la visualizzazione della pagina inted è proprio il forward infinity. Mi sembra un pochino più, più leggibile, perlomeno ad occhio nudo, quello che c'è scritto, perlomeno in queste righe più piccole, che non sono anche se voi riuscite a percepire bene dalla lente della camera, però, ecco, io che sono più o meno alla stessa distanza, e guardo tutti e tre contemporaneamente, mi sembra che il migliore da vedere, da questo punto di vista, è l'NRGM. Segue davvero a ruota l'Arc, e poco dopo arriva anche l'Acer, le differenze sono davvero minime, così abbiamo visto anche le differenze che sono presenti sugli schermi quando si vanno a leggere pagine web e quant'altro. Quindi, dopo aver fatto questa prova, direi a questo punto di andare a giocare ad Asphalt, lo facciamo partire un po' su tutti, lo facciamo partire anche sull'Alcatel, considerate che, ecco, ecco, per esempio, come sempre, scusate che abbasso il volume, come sempre, io sono in questa posizione, gli altri telefoni non hanno alcun tipo di problema, appunto, almeno l'Acer mi esce che si è staccato dal Wi-Fi, ma io mi chiedo come sia possibile, visto che è l'unico dispositivo che mi è mai capitato che si stacchi dal mio Wi-Fi in questa posizione. Quindi, il Wi-Fi di questo cellulare è davvero pessimo. Non me ne voglia l'Acer, ma, purtroppo, quello che c'è da dire, c'è da dire. Il forward infinity mi sembra particolarmente scattante, nel frattempo sta arrivando anche l'Alcatel, invece l'Acer non ne vuole sapere di attaccarsi a internet, quando, invece, io l'ho lasciato che era già bello che è connesso. Allora, qual è il problema? Vediamo un po'. Allora, come vedete, il telefono è attaccato al Wi-Fi, ma prende una sola tacca. Quando, ora, non vorrei, ecco, prendiamo, guarda, esco dal gioco, qua, guardate la differenza, una tacca, ecco, non prende due, tutte le tacche per l'energia M, ma io dico, come sia possibile fare un Wi-Fi che ha queste, davvero, pessime prestazioni. Vabbè, detto questo, rifaccio un ulteriore prova, se non, se non si può giocare, neanche quest'altra prova, direi che l'Acer, lo escludiamo da questa prova, visto che non posso stare ad aspettare che si attacchi al Wi-Fi, non è un problema, ecco, non è un problema mio, quindi l'Acer, ecco qui, non si può giocare, visto che mi dice che non c'è rete, quando in realtà la rete c'è, benissimo, dimostrato sia dall'NGM, sia dall'Arcadel. Quindi, non è possibile giocare con l'Acer, ci dispiace per questo, e sappiate che, quindi, quando siete a casa, dovete o attaccare a internet il telefono, ma io purtroppo sulle schiere che ho inserito su quel telefono non c'ho internet, d'altronde, non installate già qui e di là, e sull'Uma 625, sono tanti telefoni, quindi non posso avere miliardi di schede, ne ho già 5, mi sembrano abbastanza, di cui solo 2, però, hanno la possibilità di collegarsi a internet, vabbè, è così. Concentriamoci ora sul gioco, quindi concentriamoci su questo NGM Forward Infinity, ci permette di giocare bene, è una buona qualità dello schermo, però io noto continui e leggeri, leggerissimi, quasi impercettibili, puntamenti, come se il gioco non fosse fluidissimo, ecco, mi sembra che ci siano questa lieve difficoltà, o perlomeno, il gioco è meno scattante rispetto ad altri dispositivi che ho provato. Per quanto riguarda, invece, l'Arcatel, oddio, cosa ho premuto? ok, ho sbagliato, infatti, mi ricordo, ok, partita veloce, annulla, scegli, perfetto, siamo pronti per giocare. L'Arcatel, secondo me, dal punto di vista dell'impugnatura e della leggerezza, forse è il migliore per giocare ad Asphalt, un attimo che carica, sicuramente è un po' appesantito il sistema dalle vari aggiornamenti che sta facendo, gara, ok, non sto facendo fare una bella figura all'Acer, va bene, all'Arcatel, scusate ragazzi, ripeto che oggi sono totalmente fuso, ma semplicemente secondo me è solo perché sta facendo degli aggiornamenti visto che io non ho mai avuto problemi di caricamento di Asphalt con questo telefono. Purtroppo io gli ho bloccato gli aggiornamenti ma questo sta continuando a farli, non posso farci nulla come per l'Acer di prima che se non si attacca all'internet io non posso farci nulla. Per curiosità, ora voglio fare di prova giusto per vediamo un po' se ce la fa collegarsi adesso. Ora sono curioso, ecco no, errore di rete. Eccolo qua, che si ripresenta il nostro errore di rete. bene. Ok. Allora, nel frattempo il nostro HTL Idol è arrivato, Whatsapp lo togliamo, facciamo riprendi. Eccoci qua. ok. Bene, buona la funzionalità dell'accelerometro e buona anche, secondo me, la fluidità tranne quel piccolo scatto iniziale. Ecco, ora c'è un altro scatto. Però, ora che stiamo giocando mi sembra il più fluido. Purtroppo, ecco che mi ha Whatsapp e è riuscito un'altra volta a bloccarmi il gioco. scusatemi ragazzi, ma facciamo riprendi. Ecco, c'è davvero una ottima fluidità su questo gioco da parte dell'HTL. Allora, abbiamo visto tutte e tre i telefoni, cosa dire a riguardo di questi telefoni? Allora, mettiamo di qua l'HTL. Secondo me, il telefono migliore non esiste, cioè nel senso abbiamo visto che ognuno ha qualche particolarità in più rispetto ad un altro. Secondo me, secondo me posso dire chi è il peggiore, secondo me è l'Acer. Questo Liquid 2 sinceramente non mi sembra al livello dell'NGM Forward Infinity e dell'HTL Idol e non mi sembra al livello per due o tre punti. Il primo punto è il Wi-Fi, è davvero troppo troppo scarso la ricezione e la potenza di questo Wi-Fi come è davvero pigra l'attacco ai satelliti e sono due punti dove invece i nostri telefoni hanno fatto specialmente sul Wi-Fi molto molto meglio. Per quanto riguarda invece la memoria, secondo me il migliore è l'HTL. 16 GB di memoria interna sono tanti, 4 GB quelli dell'Acer e quelli dell'NGM sono pochi e non sempre si riescono a installare applicazioni pesanti e non sempre si riescono a spostare sull'ASD. Per quanto riguarda poi i materiali, reggelezza e finitura credo che ci sia un solo vincitore ed è l'HTL. Non ci sono paragoni con gli altri che sono costruiti in materiali plasticosi quindi davvero non materiali nobili ma naturalmente ognuno ha i propri gusti. Per quanto riguarda schermo e velocità diciamo che siamo sulla stessa categoria lo schermo è più o meno lo stesso la velocità è più o meno la stessa su entrambi i telefoni forse il Ford Infinity è quello più rapido di tutti specie per quanto riguarda il browser e per quanto riguarda la visualizzazione delle pagine web. Quindi direi che è tutto a voi la scelta quindi su questi tre telefoni che hanno più o meno un costo simile intorno ai 250 euro e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!